Ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovissimo video. Devo fare presto che mia mamma se ne sarebbe... Devo fare come? Come fare uno slime? Prima di tutto mettete a metà, dipende dalla ciotola, metà... A metà ciotola dovete metterci l'acqua, poi farina. Mi raccomando, chiudetelo per un paio di minuti. Quindi, usate l'estremità del cucchiaio. Mi raccomando, deve essere meno agrumoso, però dovete controllare che non ci sia più farina. Se è venuto troppo cremoso, aggiungeteci altra farina e il vostro slime è pronto. Ok, ora vi devo lasciare, perché vi ho detto che devo fare i compiti. Lo sai durato pochissimo questo video, però devo fare i compiti. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su, non ho guardato il mio abbraccio. E scrivete nei commenti qualche altra idea per fare qualche slime. Grazie, ciao! Mua! Mua!